4 secondi per il giro di mezzo a te per favore un po' di passato a te per favore di subire 21 di classe, 13 di Vegovic, 10 in cavallo di Casparlo, 3 di via, 16 da rosse, 9 monardi, non massero, contro il 15 di Allen, 23 sinceri di Vegovic, 6 valli di 15, 5 tantini, 23 soluzioni, 8-8, 2 di Lig, 5 in Adonizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.